È un giorno per voi importante, perché? Perché sicuramente è la fine del Ramadan, comunque la gente dopo un mese di sacrificio riesce ad arrivare a trovare una felicità. Si è concluso nelle scorse ore il Ramadan, il mese di digiuno e preghiera del calendario islamico, osservato dai credenti musulmani di tutto il mondo, Arezzo compresa. È uno dei periodi dell'anno benedetti per l'Islam. In queste ore, anche nelle moschee aretine, si celebra la festa della fine del digiuno, con una preghiera speciale e con un lauto pasto. Come vedete ci siamo quasi tutti, ci siamo riuniti e ci si festeggia sicuramente. Questo è il bello della fine del Ramadan, la festa Id, si chiama così, Idulfiter. Secondo te Arezzo è una città dove l'integrazione c'è? Voi ovviamente siete di una religione diversa rispetto magari a quella cattolica o a tante altre. Oggi per voi è un giorno di festa, per tanti italiani no, è un giorno normalissimo, ma riuscite ad integrarvi, a vivere la vostra religione senza problemi? Sì, sicuramente sì, l'integrazione c'è ovviamente, questo sì. Di questo non mi lamenta, ma magari ci sono dei problemi di comunicazione, quindi se le persone venissero a parlarci con noi, magari noi gli possiamo fornire un po' di informazioni e ci si potrebbe interrogarsi meglio. L'abbraccio è il segno di pace.